Operazione Verità sui porti di Pescara e Ortona. E' questo l'intento del senatore del PD, Luciano D'Alfonso, che si dice collaborativo sulle stanze della regione nei confronti del governo nazionale, ma che rimprovera la giunta Marsilio. I soldi già ci sono, ha dichiarato l'ex governatore. Adesso via collegare d'appalto. Un'operazione Verità che fa bene a chi deve appaltare, fa bene alla comunità di riferimento anche dell'economia, dei porti di Pescara e di Ortona. Io voglio che coloro i quali oggi si trovano ad avere responsabilità pubblica, poiché hanno trovato sul tavolo 32 milioni di euro per il porto di Pescara e 69 milioni di euro per il porto di Ortona, procedano ad appaltare a fare le attività di loro competenza, evitando il giochetto dei fanciulli e degli immaturi di scambiare poi aggiuntivamente ciò che si richiede come ciò che si è conseguito. Giorni fa, per esempio, si è determinato un'attività di comunicazione con la stampa, secondo la quale Pescara avrebbe ottenuto più 22 milioni e Ortona avrebbe ottenuto più 6 milioni di euro e si vanno a vedere i documenti di questa attività portata avanti da coloro i quali adesso sono temporaneamente alla guida della regione e si scopre come quello che loro rivendicavano come risultati sono soltanto richieste effettuate. E' come se un imprenditore solo perché si è iscritto alla Camera di Commercio festeggiasse di avere guadagnato un miliardo di euro. Sarebbe almeno un alcolizzato, per non dire peggio. Allora noi dobbiamo allineare la condotta esatta. Quando si richiede risorsa, si richiede risorsa. Quando si hanno le risorse sul tavolo, come quelle ereditate, quelle vanno appaltate, senza timidezza e senza imbarazzo e senza scambiare chi ha fatto quel lavoro, chi quel lavoro invece lo va ad utilizzare giovandosene. Il dato di fatto qual è? I 32 milioni di euro del porto di Pescara quando vengono appaltati. Adesso sono stati appaltati solo 6 milioni di euro per quanto riguarda le opere di difesa, tra virgolette, fluviale. Per il porto di Ortona siamo all'imbarazzo perché addirittura una delibera magicamente partorita sospende la copertura finanziaria. In attesa non si sa bene di quale altra pacificazione amministrativa. Una volta guadagnate le risorse, fatte le progettazioni, vanno fatte le gare d'appalto perché altrimenti le risorse in giacenza perdono capacità realizzativa. Un milione di euro del 2018, se passano 4 anni, perde capacità realizzativa pari all'8% è la regola del mercato dell'economia. Bisogna procedere velocemente, anche non avendo paura rispetto ai rischi del procedimento.